Iscrivetevi al canale, mi raccomando, campanella, campanella. Un saluto a tutti qui da Copippo! C'è poco da ridere perché anche oggi abbiamo scoperto una truffa. Purtroppo l'ho ricevuta io, non ci sono cascato ovviamente, ma ho dovuto subito arrangiare un po' tutto per poter farvi vedere di cosa si tratta. Telegram è uno strumento molto molto prezioso, molto utile per molte persone che vogliono anche salvare dati, creare canali, utilizzare dei bot e cose varie. Ma ci sono anche tante truffe. Difatti io volevo farvi vedere immediatamente che cosa mi è successo. Qualche giorno fa ho ricevuto un messaggio. Un messaggio attraverso Telegram di un certo Andrea Laura, con una bella foto di famiglia, così tutti belli felici, e mi proponevano un affare. Di cosa si tratta? Vi faccio vedere, venite con me. Perché oggi faremo tutto in diretta. Quindi io vi faccio vedere subito la schermata e di fatti come vedete mi è arrivato questo messaggio. Andrea Laura mi fa Salve, io lavoro in una banca in Francia e offriamo prestiti di denaro online alle persone in Italia con un tasso di interesse del 0,33%. Prestiamo da 5.000 euro a 5 milioni di euro. Ma è fantastico! 5 milioni di euro, ragazzi, ma sono un sacco di soldi. Allora mi fa, sei interessato a un'offerta di prestito di denaro? Allora io avevo già annusato, annusato la truffa e allora mi sono detto Stiamo al gioco. Quindi, allora ho detto per i miei amici di YouTube vi faccio questo gioco. Allora cosa ho fatto? Ho parlato, io ho parlato, vi ho scritto alcune cose. Ho chiesto più informazioni, di fatti voi avrete sicuramente letto già. Allora, io gli faccio Salve, potrei essere interessato. Quindi io ho messo un piccolo input. Come si chiama la sua banca e di dove è lei? Grazie. Sarei interessato ad un prestito per l'acquisto di una casa. Una casa. Vediamo 5 milioni di euro, che casa mi compra, un bel villazzo. Comunque, lui non risponde a nessuna di queste domande. Di fatti mi fa, quanto vuoi prendere in prestito? Ovviamente io ho sparato una cifra normale. Una normale per tutti, per chi vuole comprare una casa, diciamo. Una casa già ristrutturata, che con magari 140 mila euro, se ci stiamo dentro, che non ci stiamo molto dentro. Però, comunque io ho detto, ma non saprei di preciso. Quindi io ho fatto capire che sono una persona che non ne capisce molto di queste cose. Allora lui, ovviamente, mi è venuto subito. Io gli ho detto, più o meno 140 mila euro. Va bene. Per quanto tempo ho avuto il rimborso? Allora, io gli ho detto, una cifra normale, 30 anni. Voilà. Come si fa in una banca? Quindi io gli ho fatto intendere che io pensassi che fosse una banca. Quindi lui mi fa, hai mai fatto un prestito online una volta? Per cercare di capire se ero una persona sveglia. Allora io continuo con la schermata e gli faccio, no. Aspettate, ve lo faccio vedere meglio. No. Allora. Allora, andiamo. E lui mi fa parametri di credito. Mi ha fatto un bel foglio Excel, tutto strutturato, con un bel grafico di quanto tempo mi sarebbe voluto per restituire questa somma. E no, no, mi ha scritto solo 3-4 righe, come vedete. Parametri di credito, 140 mila euro, proprio fatti a carta e penna, 360 mesi. Tasto di credito anno 0,3%, quindi inizio del credito te lo facciamo subito, te lo mandiamo subito. Il febbraio 2022, quindi già subito. Credito mensile 406 euro, per 140 euro al mese. Mi sembra ottimo. E infatti ho scritto, di quali garanzie hai bisogno? Perché ovviamente tutte le banche vi chiedono garanzie. E molte, molte garanzie. No, non abbiamo bisogno di alcuna garanzia. Facciamo prestiti non ipotecari, quindi non è necessario inviare garanzie. Ma scusate, mi state prendendo belli fondelli? Continuiamo, perché gli ho chiesto io quindi cosa devo fare. E lui ha bisogno di alcune informazioni per registrare la sua richiesta. Una volta che un consulente finanziario mi contatterà per inviarvi il contratto da filmare, lui poi continua e io gli dico ok, mi dica cosa c'è bisogno. Mi chiede, informazioni personali. Quindi un bel modulo online FP372, da compilare firmato e timbrato. No, sempre scritto a mano, su delle righe. Nome, puntini puntini dovevo riempire queste cose. Con tutti i miei dati. Quindi inviami una foto della tua carta d'identità o del tuo passaporto, come vedete qua in basso. Prima di tutto, inviare qualcosa, un documento, un documento personale, è molto molto pericoloso. Perché loro potrebbero prendere il documento, utilizzarlo a proprio piacimento, per attivare abbonamenti, attivare qualsiasi tipo di cose, utilizzando i nostri documenti. E voi poi vi ritroverete un giorno con delle bollette a casa o delle richieste di pagamento, senza che voi sapete il perché. Quindi è molto molto pericoloso inviare qualche tipo di cosa online, se non ne sapete, se non conoscete l'ente. Quindi dovete fare molta attenzione. Poi specialmente del passaporto, del vabbè, della carta d'identità e passaporto sono la stessa cosa, però comunque loro possono utilizzare i vostri documenti. Quindi molto molto rischioso. Allora io ho voluto subito fargli capire che volevo, ero interessato a vedere di che banca erano. E infatti gli faccio, mi può cortesemente dire di che banca è, stiamo parlando, di che banca stiamo parlando, non so più leggere da dove mi contatta, almeno qualche info in più su quello che sto richiedendo. Grazie molto, gentile. Quindi cosa fa? Lui mi invia, mi continua, ok. Si tratta di Elaine Bank of France. Ecco il sito della banca. Ok, loro potrebbero farvi capire che effettivamente hanno una banca di appoggio. Ma così scrivendo anche io posso dire, ah sono dell'Unicredit, vi lascio il link dell'Unicredit. Va bene, ok, ma lei da dove sta arrivando? Mi spiega, sei della Francia. Allora io cosa ho fatto? Mi sono fatto, diciamo sono uscito allo scoperto. Allora cosa ho fatto? Mi sono subito dichiarato. Mi sono dichiarato dicendo, ha trovato la persona sbagliata. Poi comunque ho cercato di intimidirlo, di fargli paura. Io ho detto che questa recensione verrà recensita come truffa, come vi sto mostrando adesso. Così verrà visualizzata da migliaia di persone. Infatti iscrivetevi al canale perché ho bisogno che questo canale cresca, in modo che tutti quelli che vedano questi video possano condividere con altri. Perché se noi condividiamo il video, ovviamente il canale cresce. Quindi molte più persone potrebbero visualizzare questi video, molte persone potrebbero non cadere nelle truffe. Infatti se voi andate a scrollare un po' giù nei miei video, troverete molte truffe che sono riuscito a scoprire e vi ho mostrato come non caderci. Quindi dovete semplicemente iscrivervi al canale e condividere il video. Quindi accendete anche la campanellina che si trova qui sotto. Mi sembra che è di qua, di qua. Che si trova qui sotto perché se accendete la campanellina, avrete una notifica che è uscito un mio video. Niente di più, niente di eclatante o che dovete fare qualcosa. Comunque, ritorniamo a noi. Io gli ho detto semplicemente che i truffatori come voi avete una bella vita. Basta truffe schifose, buona vita. Fino a quando ce l'avrà, saluti. Io l'ho minacciato un pochettino, diciamo. Comunque, poi mi fa, gli ho mandato un bel Einstein e lui di cosa sta parlando? E io, dove abita? In Francia. Non capisco perché è anarchica parlando con te. Adesso già non capisce più, non sa più parlare italiano come si deve. Certo, io gli ho detto, sono un noto tecnologico, ho visto una sua posizione proprio ora. Io ho fatto credere che sapevo, però comunque si può trovare tranquillamente. Sta nei dintorni della provincia di Torino. Infatti io avevo trovato il suo IP e l'ho trovato nella provincia di Torino. E' vero che con gli IP si può cambiare zona. Non faccia il furbo con me, non l'euro riuscirà di truffarmi. Lui dice, questo è normale, dato che uso un VPN. E certo, usiamo il VPN. Quindi lui della Francia viene qua, nel mio paesino, che è un paesino sperduto, offrimi un prestito di 5 milioni di euro. Va bene. Allora, io gli dico, ok, non dica stupidaggini, basta con queste truffe. Io svelo tutte le truffe. Quindi, io vorrei semplicemente dirvi di fare attenzione. Non sapete chi è lente, fate attenzione. Mi raccomando, non cadete in queste truffe. Telegram utilizza molte, molte truffe. Infatti, io vorrei farvi vedere un qualcosa. Adesso arrivo, che lo cerco un attimo. Allora, io vi faccio vedere, non so se si vede. Salve, hai bisogno di un prestito di denaro? E mi dice, per rimborso i tuoi debiti ritalizzare? Un prestito da 1.500 a 900.000 euro, con interesse del 3%. Adesso è aumentato un po' il percento. Rimborso da 1 a 25 anni, va bene, sì. Raffaele D'Acri. E il bello è che tutti si fanno vedere come una bella coppietta, che chissà da dove l'hanno presa questa immagine. Chissà da dove, su quale foto su Google l'hanno cercato. Infatti, vado un po' più giù, un altro. Giuseppe Cassese. Questo è un po' più, vi faccio vedere, ecco qua. Giuseppe Cassese. Salve, como stai? Ecco, questo è già più, como? Hai bisogno di un prestito? In denaro per l'imborso del debito? Completare il tuo progetto? Variano da 2.000 a 950.000 euro per un periodo da 1 a 25 anni. Va bene, va bene, va bene così. Lasciamo perdere queste cose. Mi raccomando, non accettate di parlare con questa gente. Molta gente vi contatta dicendo, eh, come stai? Poi vi propone qualche cosa, di investire denaro, di investire su progetti un po' strani, particolari. Dovete inviare un po' di soldi per riceverne tre volte di più. No, no. Allora, rimaniamo così, che io nei prossimi video vi farò vedere un altro tipo di truffe. Ci sono tante truffe. Vi farò vedere anche, invece, quale tipo di progetto dovreste dare un po' più di attenzione. Ma questo ne parleremo in un prossimo video. Quindi rimanete sintonizzati e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, mi raccomando, questo qua lo trovate nei miei video. Se lo volete, è una bella cassa Bluetooth potentissima. Iscrivetevi al canale. Sempre, sempre di qua, la campanella, la campanella, la campanella. Iscrivetevi al canale.